Trovare il proprio scopo nella vita è fondamentale, fondamentale per vivere bene, per dare un pieno significato alla propria vita. Spesso le persone vivono, noi viviamo per sopravvivere, perché siamo spinti da un'inerzia, non ci rendiamo conto del tempo che passa e non mettiamo in atto quella che è la nostra crescita interiore, raggiungendo quello che è il nostro scopo in questa vita. Diceva Steve Jobs, se oggi fosse il tuo ultimo giorno di vita, faresti quello che stai facendo adesso? Se la tua risposta è no, per un certo numero di volte, allora devi cambiare qualche cosa. Ed è proprio così, se oggi fosse il tuo ultimo giorno di vita, che cosa faresti? Quello che faresti è ciò che rappresenta lo scopo della tua vita, la possibilità di crescere come persona. Devi evitare di subire i ricatti che ti fanno tutti fondamentalmente. La società che ti impone un certo lavoro e tu inizi a lavorare per vivere fondamentalmente, poi finisci di vivere per lavorare. Praticamente potremmo usare la metafora ti compri la macchina bella, diciamo, per andare a lavorare e poi lavori per pagare la macchina. Quando entriamo in un loop di questo genere, non stiamo raggiungendo lo scopo della nostra vita, dobbiamo cambiare qualche cosa. Ed evitare di fare come diceva Einstein, cioè fare sempre le stesse cose sperando di ottenere risultati diversi. Questa è l'essenza della pazzia, fondamentalmente. Per cui, se non ti senti appagato con te stesso, poniti questa domanda. Se oggi fosse l'ultimo giorno della mia vita, cosa farei? Questa domanda è fondamentale per capire veramente, poi però bisogna farlo. Perché ogni volta che si prende una decisione si perde qualche cosa, però alle volte si deve sacrificare qualcosa per un qualcosa di superiore, che è lo scopo della nostra vita. sentirsi in armonia con gli stessi e con gli altri. Quindi persegui lo scopo della tua vita. Per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale e seguimi anche sul blog istituzionevip.com. Ciao!